cari amici di mille un'avventura noi ci occupiamo spesso di giochi tra virgolette antichi come le avventure testuali e diciamo che una notizia ha scosso il mondo del collezionismo di retro gaming infatti come vedete da questo titolo di euro gamer c'è questo titolo che dice retro game forger è stato scoperto dopo anni di vendite che devono aver raggiunto la cifra di 100 mila dollari in pratica qualcuno ha venduto copie fisiche dei giochi negli anni 80 diciamo così tanto per capirci addirittura fine anni 70 per 100 mila dollari è riuscito secondo queste notizie a piazzare questi articoli che in realtà non sono davvero delle copie originali in questa notizia appunto di euro gamer di victoria kennedy c'è questo esempio in cui un produttore diciamo che ha delle capacità notevoli è stato scoperto dopo anni per aver venduto retro games e memorabilia a collezionisti che non avevano alcun sospetto di avere a che fare con un personaggio che evidentemente se ne stava approfittando e qui si vedono alcuni esempi di contraffazioni che sono state scoperte da questi collezionisti che però evidentemente si fidavano di questo venditore perché sicuramente conosciuto nell'ambiente visto che è riuscito a vendere così tante copie di cosa si tratta qui c'è la notizia di kotaku.com che riporta praticamente lo stesso titolo qui vedete per esempio un disco da di quelli da cinque pollici e mezzo direi dove c'è questo gioco a calabeth world of doom rich argariot questo è un gioco storico perché ha dato inizio alla serie di ultima chi si occupa di giochi dagli anni 80 sa benissimo di cosa sto parlando ecco si è scoperto che questi oggetti venduti a caro prezzo evidentemente per arrivare a 100 mila dollari ne devi vendere di roba di questo genere anche se la vendi a mille dollari al pezzo ne devi aver venduti almeno 100 ma chiaramente non si arriva a mille dollari al pezzo ed ecco c'è questo utente di twitter dominus of exalt non so se si pronunci così ecco dice questa era la mia questi sono i miei pezzi o scusate qui siamo fini ecco siamo finiti sul tweet originale ecco dice questi erano i miei pezzi più preziosi centrali della mia collezione rari e molto costosi vecchi giochi ora sembra che io sia stato imbrogliato da chi li ha prodotti una figura molto nota nella comunità di ultima e dei retro games qui è scritto tetro games ma immagino sia un errore di battitura perché quindi vedete questi pezzi imbustati c'è questa ultima a calabeth altri altri pezzi appunto che dovrebbero essere teoricamente originali per quanto li ha acquistati questo collezionista e invece probabilmente sono dei falsi e qui non so cosa possa capitare perché nel mondo del collezionismo bisogna vedere come è avvenuta la transazione se ti ho fatto credere di averti venduto qualcosa di originale e che quindi l'acquirente ritiene molto prezioso ma te l'ho fatto credere e lì insomma non so cosa possa appunto succedere effettivamente si va appunto in tribunale a questo punto se davvero il prezzo di questi oggetti vale la pena e qui c'è il l'annuncio dei degli amministratori di questo gruppo facebook che dice appunto è successo questo stanno praticamente andando a cercare altri collezionisti che hanno pezzi di questo tipo che non sono originali e ci sono varie prove qui mostrano tre prove adesso le andiamo a vedere però andiamo anche a fare un piccolo gameplay di pochi minuti proprio su a calabef che prima abbiamo visto citato da qualche parte ecco qui probabilmente da qualche parte abbiamo visto citato quel gioco che qui lo vedete in questo in questa immagine di twitter a calabef andiamo a vedere di che si tratta così per curiosità ovviamente nel mondo digitale è un po problematico parlare di copie originali se non abbiamo la copia fisica dove c'è la scatola dove c'è il disco sono tutte cose abbastanza evanescenti perché noi possiamo scaricarci il formato digitale del nostro gioco e giocarci quando vogliamo dai soliti marketplace che esistono tipo steam o epic games e così via quindi io posso giocare a ultima andandomela scaricare e quello è ultima anche se magari lo sto giocando in un emulatore sto usando praticamente il codice originale e me lo sta riproponendo una piattaforma moderna cercando di essere più fedele possibile alla all'esperienza originale ma qui stiamo parlando di pezzi da collezione fisici pezzi di carta manuali che sono stati stampati all'epoca e questo già ha una valenza più più fisica ora si è scoperto qualcuno ha scoperto che questi dischi che sono stati acquistati ecco per esempio qui vedete in questa prima prova di malversazione diciamo almeno ipotetica perché è presunta qui si stanno facendo dei confronti tra le copie che sono state vendute e copie che si sta si sa sicuramente che sono degli originali ma non ce n'è stato alcun credo anzi sicuramente visto che è una cosa della settimana scorsa non c'è stato nulla ancora in tribunale di accertato non si sa neanche se si arriverà un tribunale se ci sarà qualche riparazione che non arrivi a qualcosa di più grave giustamente e qui si stanno appunto mostrando in questi confronti le copie originali per esempio in questo caso qui si vede bene la copia originale dovrebbe essere questa stampata in un certo modo qui invece si vede il differing caratteristico di certe situazioni questa forse qui sotto dovrebbe essere ecco quella qui so non ho idea perché non me ne intendo bisogna proprio intendersene per capire quale tra queste due cose è l'originale oppure no quindi una materia anche abbastanza delicata però chiaramente uno si fida di del venditore vuole comprare qualcosa da mettere nella sua collezione che magari presenta già tanti pezzi pregiati per impreziosirla ancora di più e si fida perché qui è difficile che ci sia l'esperto che capisce esattamente solo confrontandosi tra vari collezionisti hanno capito che c'era qualcosa che non andava qui si vedono delle differenze ma sono differenze dovute semplicemente al fatto che sono coppie vecchie ben conservate male conservate anche all'epoca si era fatto un solo tipo di stampa o se ne erano fatte di più ovviamente si è scoperto che certe a carta non poteva esistere all'epoca certi metodi di stampa non potevano esistere all'epoca ma ancora di più qui vedete altre prove altri confronti qui si vedono ecco qui si vedono dei dischetti con l'etichetta appiccicata sopra e qualche acquirente qualche collezionista si è accorto che all'interno il disco era vuoto non si capisce come mai si possa produrre una copia fasulla almeno andiamoci a scrivere sopra il gioco tanto lo troviamo dappertutto adesso tra poco giocheremo ad akalabeth e andremo proprio a vedere che si può ricavare una copia digitale del gioco perché si trova dappertutto su internet le coppie fisiche o me le stampo o è difficile che io le possa trovare così scaricandole da internet ovviamente non è che me la posso stampare io posso scaricarmi l'immagine posso stamparmela e sono contento perché ho anche un'apparvenza del dischetto originale ma ovviamente non è qualcosa di davvero originale qualcuno si è accorto che sul proprio dischetto che aveva acquistato a caro prezzo non so quanto possano valere queste cose ecco non c'era dentro niente e voi direte ma com'è possibile che qualcuno si accorga adesso magari dopo queste cose risalgono al 2015 e sono state vendute per vari anni com'è possibile che io compi un dischetto nel 2015 e non mi accorga che è vuoto perché effettivamente mettersi a leggere un disco di quell'epoca può danneggiarlo quindi il collezionista si fida sa che ha la sua copia originale dentro non c'è niente e non se ne accorge quindi non so come finirà questa storia non so neanche se sia vera a questo punto perché di bufale se ne vedono tante ma qui ci sono talmente tanti siti che replicano queste notizie che è difficile che siano davvero delle delle bufale però vedremo chiaramente se si arriverà a qualcosa di più concreto ecco ci saranno dei risarcimenti immagino perché vendere cose che non sono vere se magari hai dato anche un foglio che dice questa cosa originale e non si basa solo sulla parola ti dico che era originale poi la parola mia contro la tua che te l'ho detto lì c'è poco da fare ma se magari ti ho messo anche un foglio che dice questa roba è originale e per questo me la paghi che so 100 euro allora lì insomma già ci sono delle delle prove significative non solo il fatto che sia ben riprodotta perché lì in effetti uno dice io ti ho fatto una bella copia e provaci tu a farla così bene chiaramente lì la parola mia contro la tua comunque a calabezza stavamo parlando di questo gioco state attenti quindi se siete appassionati di queste cose andate a indagare bene se state acquistando al prezzo giusto qualcosa che in realtà è fasullo se poi l'avete acquistato per 10 euro insomma pensavate di fare l'affare direi che lì insomma ve la siete anche un po' andati a cercare qui si vedono dei particolari di queste stampe e quindi tutti questi materiali potrebbero davvero passare per originali insomma qui vedo una cassetta mi sembra difficile che magari i floppy da 5 pollice e 5 pollice e mezzo si trovano ancora le cassette mi sa tanto insomma che sia più difficile da contraffarre ecco una cosa di questo tipo una stampa invece è molto probabile che si riesca e qui c'è una cassetta potrebbe essere sì una cassetta qualunque c'era su della musica ci hanno appiccicato chissà vabbè comunque io non me ne intendo e qui vedete a calabeth cos'è a calabeth e concludiamo questo video atipico per il canale andando proprio a vedere da dove è nata tutta la saga di ultima da dove è partito richard gariot lord british come sapete che si si poteva chiamare no questo mitico personaggio che ha dato il via a questa saga di ultima e a calabeth è appunto il prequel chiamiamolo così a calabeth world of doom come al solito wikipedia c'è di supporto perché ci spiega bene di cosa si tratta come si giocava da cosa è nato quindi un gioco ammatoriale realizzato da richard gariot su una telescrivente teletype priva di schermo e queste storie appunto sono affascinanti trovate dappertutto su internet resoconti di questa storia ormai mitica che risale al 78 79 e da lì poi è nata appunto tutta la serie dicevamo di ultima che ha avuto tanti seguiti e tanti appassionati vedete la serie principale da ultima 1 fino a ultima 9 questa è solo la serie principale ma potrebbe essere anche ripreso questo marchio no quindi ci sono tantissime cose the savage empire me lo ricordo ma erano già cose un po diverse rispetto agli originali e qui vedete una schermata tipica realizzata per l'apple 2 con questa grafica essenziale e ho trovato ovviamente su internet il manuale originale che spiega un po come funziona il gioco quali tasti premere vedete la grafica insomma ci poteva stare a quell'epoca non so se era lo stesso lord british che si disegnava queste cose da solo però in effetti sembra tutto un po amatoriale probabilmente qualche ragazzino qualche bimbo che fa disegni simili a questi se non migliori comunque qua c'è tutta la spiegazione si narra che avesse speso lord british 200 dollari dell'epoca del 79 per mettere nel negozio in cui vendeva di elettronico roba di questo genere vendeva il suo gioco e ne ha fatto alcune copie e ha cominciato a venderle nel negozio in cui lui era commesso e senza crederci più di tanto comunque aveva investito questi soldi per stampare roba adesivi tutto quanto ci voleva e questa roba poi una delle copie è finita in qualche publisher che ha creduto nel progetto e da lì poi appunto è nato tutto il mito che segue e allora andiamo a vedere a calabeth per concludere ho trovato il sito play minigames è un sito russo e quindi cominciamo a cancellarci un po di pubblicità di google clicchiamo non so quanto sia legale quello che sto facendo però lo guardiamo un attimo poi lo lasciamo lì al suo destino diciamo che è tutta tutto un esperimento che facciamo per capire di cosa stiamo parlando e ci chiede un numero fortunato notate le la scrittura antica no type c lucky number mettiamo 3 ci chiede il livello a cui vogliamo giocare livello 1 poi ci chiede ti vanno bene queste qualità le chiama qualità in questo caso si rifà ovviamente è il primo gioco di ruolo a calabeth il primo gdr conosciuto almeno che io di cui io abbia notizia e da cui poi la serie ultima ha preso il via no dicevamo e quindi vedete forza destrezza stamina saggezza oro pratica dungeons and dragons riprodotto sul computer come in altri giochi di questo genere diciamo mettiamolo anche full screen ma non lasciamolo così perché so che così funziona quindi ci piacciono queste qualità tanto facciamo solo due passi per vedere come si presenta poi vi saluto e ho detto sì shall thou be a fighter or a mage facciamo combattente e quindi qua possiamo acquistare cose allora io acquisto cibo perché ogni volta che passa un turno il cibo scende di un'unità e a un certo punto quando scenderemo a zero si muore non è sicuramente un gioco tipico moderno in cui si cerca il giocatore di tenerselo buono no come in certi giochi no in cui si facilitano un po le cose qui bisogna pesare bene tutti gli acquisti che si fanno allora acquisto parecchio cibo per avere almeno 50 turni e non morire subito poi ci andiamo ad acquistare un'ascia scusate ho premuto 5 ma dovevo premere a ed ecco l'ascia poi ci prendiamo uno scudo e quindi devo premere s e così via magari ci prendiamo anche l'arco e le frecce immagino di premere b ci prendiamo anche un bell'amuleto magico ha però ho esaurito l'oro me ne rimane uno solo vedete quindi non posso acquistare nient'altro premiamo q ci saluta ed ecco qui welcome to ala a kalabeth world of doom e questa è la grafica che vi accompagna nel gioco queste immagino sia delle sorte di città possiamo spostarci vedete da una città all'altra ci sono delle montagne ecco questa che vedete qui questo sgorbio che vedete qui in alto a sinistra è una montagna se prova a andarci non puoi attraversare le montagne quindi ci sono degli ostacoli che non si possono superare ci sono questi quadrati altre montagne ci sono queste x tante montagne e adesso scendendo tornando un po verso le città vedete che arrivato qui quindi notate che somiglia un po a un avventura testuale visto che si danno dei comandi ma i comandi sono davvero pochi come potete vedere nel manuale semplicemente per spostarsi per eseguire gli attacchi per comprare i vari oggetti che ci servono vedete che come cibo siamo già scesi a 25 ne avevo comprato 50 allora proviamo a scendere in questa città no questo non era qui la città scusate allora quit e anche guardare l'inventario fa scendere il cibo provo a scendere qui forse qui c'è un dungeon aia avevo capito come scendere nei vari proviamo qui ecco allora i dungeon si incontrano dove ci sono le x e vedete ecco la grafica tipica che poi si ritroverà nelle serie successive ovviamente con un po di colori qui siamo scesi nel dungeon c'è la scaletta possiamo spostarci verso destra per esempio e vedete che laggiù c'è una porta faccio un passo avanti la porta si avvicina riconoscete sicuramente adesso mi sposto verso sinistra turn left vedete c'è la porta altra porta mi giro a destra e prima o poi si incontrano ecco qui c'è una scatola e il cibo è sceso io spero di incontrare un nemico al più presto per oppure forse posso comprare qualcosa anche adesso ecco vedete ho fatto un passo avanti ho trovato un'ascia e cinque pezzi da otto cinque dobloni in pratica non ho trovato cibo e siamo scesi a 18 avanzo ancora 17 e mezzo questo è un vicolo cieco mi sono girato probabilmente sto girando ecco un'altra scatola pensavo di aver perso la strada di rifare la strada di prima ho trovato cibo poco cibo perché sono ancora 17 ho trovato anche dell'oro siamo arrivati a 10 speravo di trovare qualche nemico da affrontare eccolo qui siamo attaccati da uno scheletro lo scheletro è quello a fare lì lo attacchiamo ci chiede con quale arma ora non so come scegliere l'ascia provo a premere uno vediamo l'ho mancato e ci ha rubato del cibo e qui vedete sono quelle dinamiche che ricordano certe avventure testuali che abbiamo visto per esempio zork in cui si incontra anche gente che ci può portare via degli oggetti e qui rispetto alle avventure testuali c'è anche questa ambientazione tridimensionale che per l'epoca stiamo parlando del 79 non siamo ancora negli anni 80 sicuramente colpiva i giocatori adesso ci fa un po sorridere vedere queste cose probabilmente vedendo un giocatore moderno anche gli ultimi successivi sicuramente non colpiscono più come succedeva una volta proviamo ancora ad attaccare e proviamo a cambiare arma non ho capito bene cosa è successo vabbè non sono riuscito a leggere perché è passato comunque vedete è tutto qui il gioco poi chiaramente andando sempre più avanti proviamo a morire di fame e qui sembra che si possa scendere ancora sono attaccato da uno scheletro eccolo lì questo già assomiglia più uno scheletro quello di prima sembrava avesse una k ho ben capito vedete a parte la scala che non vi fa capire la figura si vede un po la sagoma dell'omino lo scheletro armato di direi quella è una scura e forse anche una specie di scudo che è lì di fianco proviamo ad attaccarlo volevo vedere se riuscivo a morire rapidamente l'unica è muoversi così adesso arriviamo a esaurire tutto il cibo tanto lo scheletro qui c'è un vicolo cieco lo scheletro non ci fa scappare lo attacchiamo lo abbiamo ucciso abbiamo anche la nostra prima kill su akala beth world of doom abbiamo anche la nostra soddisfazione personale ma andiamo dunque sono in un vicolo cieco vorrei uscire vabbè continuo a andare non trovavo il corridoio andiamo avanti laggiù c'è la scaletta ecco stiamo per morire vediamo che succede di fame vedo sempre questa scala punto 5 il cibo c'è rimasta mezza razione di cibo punto 3 punto 1 bene sei morto di fame e dunque ecco possiamo invocare il miracolo della risurrezione però direi che va bene così dobbiamo premere esc e quindi si ricomincia a giocare bene quindi se siete appassionati di vecchi giochi mi raccomando fate attenzione visto che ci sono queste notizie di qualcuno che se ne approfitta uno non se ne intende o meglio le copie sono così ben fatte che per accorgersene si sono dovuti mettere dei collezionisti a confrontare le copie a capire qual è quella corretta quella originale e quale invece è stata contraffatta vedremo se ci saranno degli sviluppi in questa vicenda per il momento ci sono questi articoli su internet che su tanti siti sono comparsi siti di videogames che parlano appunto di videogiochi e qui abbiamo visto appunto a calabeth world of doom e questa dovrebbe essere una copia contraffatta secondo quello che dicono in questi articoli e qui appunto questo collezionista che con le lacrime agli occhi mostra le sue copie che erano il nucleo centrale le copie più belle della sua collezione pagate probabilmente a caro prezzo che si sono probabilmente rivelate dei falsi io non arriverò mai a comprare cose di questo genere perché non mi appartiene questo tipo di passione preferisco giocare le copie digitali che comunque hanno al loro interno il succo di quello che era all'epoca e ricordarmi com'era giocare a questi giochi quando avevo 12 13 15 anni e poi chiaramente gli anni sono passati e tornare a giocare a questi giochi sicuramente è piacevole ti fa ricordare tante cose probabilmente ad alcuni fa lo stesso effetto avere tra le mani la copia originale di qualcosa di così tra virgolette ormai storico peccato che ci sia forse qualcuno che se ne approfitta e questo ovviamente in tutti i campi c'è non solo nel campo del collezionismo dei videogiochi purtroppo il mondo è così facciamocene una ragione e cerchiamo di aprire gli occhi non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in uno dei prossimi video ciao a tutti